il logo spero che qualcuno abbia imparato ormai a riconoscerlo perché se dobbiamo dargli un pregio sicuramente un logo fortemente iconico e devo dire che in questo momento siamo in una fase di forte crescita della customer base quindi non dico che casualmente qualcuno potrebbe conoscerci ma allargando la platea includendo casualmente qualche runner probabilmente ci sarà qualcuno che già ci conosce allora chi siamo allora rumble nasce nel 2019 come come società poco dopo che andrea manzo il sottoscritto decidesse che fosse veramente importante introdurre nell'ambito dello sport tech uno strumento assolutamente rilevante ai fini della prestazione ma anche del benessere generale e che fino a quel momento nessun player presente sul mercato aveva mai pensato di introdurre io ho praticato per 10 15 anni anzi continuo a praticare diciamo running da dall'età adolescenziale fino fino ad ora sono stato sempre una persona molto attenta all'analisi dei dati e quindi da runner di medio livello diciamo se qualcuno conosce tempi avevo un'ora e 18 in mezza maratona comprendevo che ci fosse una dimensione del tutto non ancora analizzata in termini di analisi della prestazione che poteva essere assolutamente rilevante anzi molto più rilevante di tutti gli altri fattori messi insieme in particolare mi sto riferendo alla dimensione ambientale ovvero tutto ciò che ci circonda non solo influenza la nostra vita quotidiana il nostro benessere i nostri livelli di stress ma in primi si influenza la prestazione atletica e la prestazione atletica può essere influenziata dal clima in una maniera così evidente da a volte condurre anche l'atleta partecipante ad incorrere in seri problemi di salute quindi è un ambito che va ad abbracciare diversi settori dalla performance al benessere ma anche alla salute quindi un ambito estremamente importante e a un certo punto della mia carriera podistica mi sono reso conto che fosse necessario un approccio razionale e ci fosse in realtà anche un'opportunità di business in questo al che ho cercato di verificare la mia idea sviluppando una prima analisi con delle evidenze incredibili e questo mi ha portato a convincermi che questa idea ovvero che il clima e l'ambiente influenzassero la prestazione atletica ma a seguire tante altre sfere della potenità fosse assolutamente necessario in questo modo nasce Rumble e nasce in seguito all'incontro che ho con con Ivan Pastorini attualmente CEO di Rumble e una serie di persone che hanno delle specializzazioni in vari ambiti assolutamente essenziali per il progetto come Riccardo Fogliato che è un phd alla Carnegie Mellon e quindi si occupa di data science François Marzetta che qualcuno nell'ambito della corsa sicuramente conoscerà perché è un ex atleta delle fiamme oro ex maglia azzurra anche si occupa di marketing e quindi mettendo insieme gli ingredienti della conoscenza della materia perché io in realtà vengo da un passato nell'italian high force dove mi sono occupato sia di dati che di meteorologia quindi mettendo insieme i dati la meteorologia e l'esperienza pratica sul campo da runner si è acceso una lampadina e aveva anche la possibilità di intraprendere una dimensione di analisi concreta che ovviamente non avrebbe richiesto poi il contributo di altre figure professionali nell'analisi dei dati nel marketing e anche nella nella grande esperienza di Ivan che ha avuto un ruolo di executive manager per importanti company sia nazionali che internazionali a creare il tutto poi c'è i nostri benedetti ingegneri e sviluppatori quindi in primis alessio garmi che è socio ha una grandissima esperienza una persona importantissima per questo progetto questo momento siamo prossimi a un round di finanziamento la nostra storia iniziata quasi un anno e mezzo fa circa con una prima fase di analisi bootstrapping ovviamente necessaria per far sì che quella che poteva sembrare un'intuizione in realtà si trasformasse in un'idea di business concreta nel 2019 nasce rumble tra il marzo 2019 dicembre 2019 con dei micro seed cerchiamo di fare necessità virtù e crescere gradualmente introducendo nuovi strumenti all'interno dell'app abbiamo un progetto ben definito a marzo dell'anno scorso come per tantissimi imprenditori la pandemia ha rappresentato un momento di di pivot di cambiamento ma anche di opportunità ecco per noi è stata una grande opportunità mi scuserà qualcuno se parlo in termini molto pragmatici ma intendo ovviamente solo in termini di business perché ci ha dato la possibilità attraverso uno strumento nuovo delle gare virtuali di farci conoscere a costo zero da una customer base che è sempre più ampia ho detto gare virtuali ma che cosa sono queste gare virtuali allora entriamo nel dettaglio entriamo nel dettaglio del primo argomento federico che si riferisce proprio alla risposta innovativa di rambolo in un momento assolutamente difficile in tantissimi settori e la risposta di rambolo va a dare una uno strumento concreto che possa fornire ai runner la possibilità di confrontarsi quindi uno strumento per far divertire i runners ma avere anche una dimensione di analisi quindi di agonismo e possa dare anche la possibilità a altre figure di interagire quindi andando a creare un piccolo ecosistema che vedremo nel seguito può essere assolutamente interessante ciò che è alla base della nostra riflessione è quanto vi ho brevemente espresso prima questa è una massima assolutamente semplice ma estremamente rilevante all'atto pratico ovvero questo è stato il mio primo pensiero quando ho dato vita al progetto ovvero che la miglior prestazione atletica è frutto della funzione di capacità fisiche e psicologiche ma è solo in particolari condizioni ambientali che l'essere umano può esprimere il suo massimo potenziale questo è assolutamente vero tantissimi atleti ma semplici amatori l'hanno potuto sperimentare ma è una considerazione che a volte non viene analizzata nel dettaglio per capire che cosa possa significare effettivamente questa frase allora noi siamo andati ad analizzare effettivamente cosa volesse di questa frase e quindi abbiamo constatato che il rendimento della macchina umana fosse effettivamente influenzato in maniera massiva dall'ambiente in termini in termini cronometrici passiamo parliamo di possibili differenze che si possono generare ad esempio su una maratona superiori a mezz'ora sul tempo finale in particolari condizioni vedremo tra poco anche dove quindi questo ci ha fatto pensare che ci fosse veramente una carenza una lacuna importantissima nell'ambito degli strumenti che i runner possono avere a disposizione per migliorare la propria performance migliorarla ma anche pianificare al meglio i propri allenamenti e scegliere i momenti più opportuni per andare a cercare un record ecco un record che cos'è un record allora un record sicuramente richiede che tanti fattori siano allineati nella maniera giusta no è qualcosa di assolutamente evidente ad esempio lo abbiamo potuto constatare nei tentativi di record costruiti in maniera artificiosa come il tentativo di scendere sotto le due ore ecco in quel tentativo oltre a una piccola analisi climatica è stato introdotto un fattore nuovo che non c'è nelle gare ordinarie quindi la definizione di un modello di formazione av che consentisse di offrire una penetrazione aerodinamica migliore per andare a raggiungere l'obiettivo no però questo ci fa capire come per raggiungere un record siano veramente essenziali tre dimensioni una è personale dell'atleta e si riferisce a ciò che è stato prima della gara quindi sicuramente il talento che qui non c'è ma è necessario l'allenamento l'integrazione e lo scarico un altro fattore assolutamente determinante ma spesso sottovalutato e di cui spesso non si tiene nemmeno conto ma parlo di allenatori nazionali internazionali nonché semplici amatori e l'ambito ambientale quindi condizioni meteo acclimatamento dell'atleta e percorso di gara e poi concorre a definire un record l'allineamento anche di tutto ciò che ciò che accade in gara quindi la motivazione durante la gara la tattica di gara la scia e l'utilizzo di calzature questo è un argomento anche molto discusso adesso perché l'utilizzo di calzature tecnologicamente sempre più avanzate apre ad un altro tema che è quello dell'etica sportiva relazionata alla prestazione ovvero fino a che punto l'uomo potrà utilizzare degli strumenti che in qualche modo possono migliorare la prestazione però questo è un ambito estremamente interessante ma su cui non mi dilungo adesso Andrea su questo voglio dirti che da ex pallabolista quindi giocatore indoor il clima non l'ho mai considerato come un attore che poteva influenzare la performance ora magari si pensa al beach volley dove ci sono le condizioni atmosferiche possono avere un impatto però pensare che la performance sia effettivamente determinata anche dalla condizione atmosferica anche per questioni di secondi o decimi è un dato molto molto interessante secondo me immagino che i 100 metri fatti da torto in 999 con condizioni migliori o peggiori potevano o migliorare o avere una persona una performance completamente diversa sì assolutamente sì nelle discipline di sprint poi in realtà scopriremo che l'altitudine che in realtà fa la differenza no quindi una capacità di penetrazione aerodinamica maggiore a fronte di una densità dell'aria più bassa ma lo vedremo proprio dopo perché c'è proprio l'esempio di delle olimpiade del 68 di città del messico comunque questo per tornare al discorso di prima quindi dare anche una dimensione di 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 ciò di cui stiamo parlando questo il tempo mediano dei finisher della maratona di chicago che si svolge ogni anno ad ottobre chicago si trova nella regione dei grandi laghi nell'illinois caratteristiche del clima americano è l'estrema variabilità tant'è che a chicago ha delle medie ad ottobre tra i 16 e 10 gradi massima e minima ma degli estremi di 35 e meno 10 quindi in un solo mese tocca degli estremi che roma ad esempio non tocca nell'intero anno quindi che cosa è successo ad esempio a chicago che il tempo medio dei finisher nel 2006 è stato di 3 ore 50 nel 2007 di 4 ore 30 nel 2008 di 4 ore 19 e via di lì questo spiega questo spiega tanto questa è la temperatura con cui si è corsa la maratona di chicago tra il 2006 e il 2009 come potete vedere nel 2007 si è corso con quasi 30 gradi di una condizione a cui nessun runner è abituato in particolare c'è qualcuno purtroppo che non è arrivato alla fine della maratona quindi ha concluso la propria vita durante la maratona quindi questo è un ambito estremamente importante non solo in termini di prestazione ma proprio in termini salvaguardia della salute dell'atleta e dello sportivo questo schema vale più di questa questo grafico questo istogramma vale più di 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 mille parole da già una dimensione di quanto il clima appunto possa influenzare la prestazione ma non solo ecco federico riesci a individuare dove siamo qui ci sono le palme ci sono dei grattacieli quasi perché anche fortunatamente c'ero non la correvo ma ho avuto il piacere di lavorare a doha nel 2019 le condizioni come penso vuoi riferirti a questo non sono state delle migliori per per gli atleti certo si è si è scatenato un dibattito enorme che prima che il covid giustamente occupasse l'intera scena mediatica apriva anche delle considerazioni sulle olimpiadi di toko che ancora non si sono svolte no perché anche in giappone le condizioni climatiche in estate sono disaggevoli infatti proprio da questa esperienza di doha si era pensato di spostare poi effettivamente è stato così la maratona l'isola di okkaido che è molto più a nord quindi per consentire agli atleti di correre con un clima migliore si di doha sicuramente qualcuno ricorderà la maratona femminile dove solo 40 atlete sono arrivate al traguardo su 67 partenti e che si è corsa nonostante la partenza a mezzanotte perché si è tentato di tutto con 32 gradi il 70 per cento di umidità tra l'altro c'erano due atlete italiane molto forti la docena e l'epis entrambe ritirate andiamo avanti perché prima parlando di torto in realtà aprivo una riflessione proprio al controaltare cioè correre in condizioni di caldo estremo sicuramente può portare all'altre età un degrado della performance enorme specialmente sulle lunghe distanze no e anche dei rischi concreti per la salute se invece andiamo in altura qui siamo qui c'è la bandiera che aiuta abbiamo parlato prima qui siamo a città del messico e in particolare nelle olimpiadi del 68 il clima anzi in realtà l'ambiente fu determinante che città del messico è sopra i 2000 metri di altitudine 2200 la densità dell'area più bassa si realizzano dei record mai più e guagliati per i successivi 10 20 e anche 30 anni in alcuni casi sui 100 200 400 metri e anche sulla famosissima gara del salto in lungo con più record del mondo in successione uno dietro l'altro quindi stiamo arrivando a capire che in realtà il concetto di prestazione è fortemente legato all'ambiente si potrebbe quasi definire relativo non è nostra intenzione creare una nuova teoria della relatività però la prestazione effettivamente è relativa è un concetto che già è presente nell'atletica nelle gare di sprint perché si tiene conto del vento no c'è un limite per validare i risultati ma non se ne tiene conto in tutto il resto quindi questo è assolutamente decisivo importante e troviamo che sia assolutamente necessario introdurre uno strumento tanto per l'etleta dell'heat tanto per il semplice amatore magari trasformandolo anche in uno strumento che possa essere molto vicino al gaming perché il concetto di prestazione relativa che in realtà poi diventa in qualche modo una prestazione oggettiva e quindi confrontabile apre a degli scenari di gaming vediamo che cosa è successo questo è il nostro flusso di analisi nel senso rumble è capace di acquisire un'attività che sia ad esempio una corsa da device wearable attualmente stiamo ampliando la compatibilità c'è la possibilità anche di registrare un'attività con con l'applicazione che cosa fa rumble analizza le caratteristiche del percorso le processa analizza le condizioni meteo e va a definire a partire da una qualsiasi prestazione quindi può essere la maratona dell'atleta d'elite a doha che è un dato fortemente significativo può essere un'altra tipologia di gara in altura può essere la corsa al parco di un amatore può essere qualsiasi tipo di prestazione dall'atleta di elite alla persona che corre per fini totalmente diversi analizzate queste due dimensioni siamo in grado di andare a definire che cos'è la prestazione assoluta ovvero definire a partire da una qualsiasi prestazione realizzata su percorso diverso condizioni meteo diverse qual è il potenziale di quell'atleta in condizioni ideali ovviamente questo è esattamente bello stuzzicante apre a degli scenari di gaming dietro c'è un iceberg di lavoro di data science perché per andare a definire questo ovviamente necessario un lavoro di analisi estremamente complesso e quindi la definizione di prestazione assoluta in realtà ci dava la possibilità senza saperlo di essere pronti per quello che sarebbe accaduto dopo febbraio 2020 noi eravamo pronti a partire a marzo con l'applicazione in cui sarebbe stato presente questo strumento sono presenti anche altri strumenti che vedremo più avanti ovviamente tutti gli eventi sono stati sospesi l'italia come molti altri stati entrare in lockdown quindi tendenzialmente la mobilità era assolutamente azzerata dobbiamo partire nel momento in cui la mobilità era azzerata situazione ideale per un'app che si 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 riferisce e vuole essere utilizzata da persone che corrono allora ci siamo un po guardati in faccia abbiamo cercato di capire se avessimo degli strumenti per fare qualcosa di innovativo anche efficace in questo momento preciso abbiamo capito che in realtà quella per noi sarebbe stata un'opportunità incredibile perché da lì a poco sarebbero nate una serie di iniziative atte a promuovere la sfida virtuale tra runner e quale migliore strumento se non un'applicazione che a partire da prestazioni realizzate in luoghi diversi riesce a fornire un dato oggettivo della prestazione poteva essere migliore per fare delle gare virtuali noi quindi abbiamo trasformato un pericolo enorme nella nostra più grande opportunità andando a integrare a al flusso che avevamo visto prima un ultimo pezzettino che in realtà è il più semplice di tutti cioè significava solo mettere insieme quello che ogni utente singolarmente vedeva sul proprio smartphone ovvero la prestazione assoluta vado a correre posso vedere quello che avrei potuto fare in condizioni ideali ok l'ultimo pezzetto è estremamente semplice abbiamo definito un'area in cui gli utenti potessero vedere confrontate le prestazioni di uno e dell'altro e quindi di interagire tra di loro in termini di competizione ecco qui purtroppo c'è una persona che corre da sola spesso i runner si aggregano corrono insieme c'è una persona che corre da sola ma a giugno a luglio ad agosto a settembre adesso abbiamo dato a più di 10.000 utenti la possibilità di gariggiare di confrontarsi a distanza di comprendere una dimensione nuova di analisi che quella della normalizzazione ma soprattutto di divertirsi di mettersi alla prova di trovare nuovi stimoli perché sicuramente ragionando in un'ottica complessiva la dimensione del running è molto piccola rispetto a tutto no ma ogni settore ha avuto un suo problema anche il running la perdita di motivazioni l'assenza di gare molte persone hanno attaccato le scarpette al chiodo beh pensiamo che in realtà noi abbiamo stimolato tante persone a non attaccare le scarpette al chiodo e abbiamo creato anche un ecosistema che vediamo tra poco che può essere molto interessante non solo perché corra per altre figure questo è quello che è successo la mappa sembra una delle mappe che sono spesso condivise riguardo la pandemia sembra dalla mappa della john hopkins in realtà questa è la provenienza degli utenti rumble dall 1 giugno al 30 novembre la riflessione che in realtà volevo condividerti federico è che noi non abbiamo investito nulla in comunicazione in questo periodo perché al di là che siamo in fase di affinamento quindi noi siamo ancora in una fase beta stiamo mettendo a punto degli ulteriori strumenti di analisi abbiamo avuto proprio un boost incredibile con le gare virtuali quindi a fronte di comunicazioni di una comunicazione pari a zero abbiamo portato il rumble 8400 utenti questa è una stima della settimana scorsa ma andiamo verso i 10.000 con una distribuzione dei classi di età molto interessante perché vediamo che in realtà la classe di età con una frequenza più alta è quella tra i 40 e 50 anni che corrisponde anche con la classe di età che è una maggiore capacità di spesa questo molto carino parte dall'inizio quindi parte in realtà da ottobre qui in alto a sinistra vedete una data che scorre sono le attività degli utenti rumble in realtà questa questa animazione parte da da fine maggio quando eravamo io tre amici su questa mappa e adesso siamo 8400 le gare virtuali sono state per noi veramente un'opportunità per farci conoscere ecco la mappa all'inizio siamo a fine maggio qui quindi la differenza è assolutamente evidente che cosa abbiamo fatto in questo periodo allora il primo evento è stato a inizio giugno con la corri treviso in concomitanza dell'evento reale che era stato annullato ed è stato un grande successo perché al tempo fu la seconda gara in italia in termini di partecipazione e comunque raggiungere questo obiettivo con una start up a fronte di giganti del web che diciamo agiscono anche in italia in maniera forte è stato un successo enorme tant'è che questo ci ha portato a stabilire delle relazioni a creare un network con vari player tra cui garmin io corro qui con cui abbiamo realizzato le gare virtuali durante l'estate che hanno visto ulteriore crescita dei numeri e ci hanno avvicinato poi anche organizzatori più grandi come la vinis marathon che ci ha chiesto supporto in ottobre alla quale abbiamo assolutamente dato tutto il nostro contributo in termini di sviluppo e supporto tecnologico e arriviamo al presente in cui in qualche maniera a conoscenza e quindi con la virtual charity challenge organizzata da rancard fidal mi sembra che hai partecipato federico anche giusto io ho partecipato volevo anche collegarmi alla parte demografica e facevi vedere che in realtà dai 40 in su si fa più attività fisica e volevo far vedere che questo in realtà è un dato che noi riscontriamo anche per chi cammina solitamente chi cammina chi si muove in un parco non è non è il ragazzo under 30 o ancora più giovane ma è di un target di età più alta magari perché come dici tu hanno uno standard economico più alto o una concezione del benessere è più improntata però sicuramente uno standard più alto io sì sono uno dei runners che ha fatto la virtual charity challenge ottimo invito anche a dare un'occhiata a questo evento perché comunque è per la beneficenza e per varie charities e sviluppa in quattro mesi io non sono un runner quindi era la mia prima cinque chilometri della vita e onestamente tempo finale tempo finale lo lasciamo forse ai commenti se c'è qualcuno che lo vuole sapere ok no a parte gli scherzi ho fatto un tempo non ottimo quindi sui 30 per cinque chilometri però sono felice di aver finito questa corsa è corsa anche in condizioni climatiche ecco questo è determinante ormai non entrare nella considerazione perché qua in inghilterra il clima non è di più consoni e running se non si hanno i gears di cui penso parlerai in seguito non ero preparato a correre però completata quindi mi va bene ottimo ottimo tra l'altro proprio in questi giorni c'è stato anche un evento ehm organizzato da da Giorgio Rondelli probabilmente molti lo conosceranno che sono nell'ambito dell'atletica è ha visto prestazioni veramente di assoluto livello nonché ehm atleti africani che hanno corso in CIAD in Sudan quindi c'è stato ehm un elemento di ehm un elemento nuovo per noi eh ovvero la prestazione di atleti direttamente dall'Africa visibili visibili in app abbiamo avuto anche una prestazione dalle isole Salomone eh un'altra prestazione da Manhattan quindi eh al di là dei contenuti tecnici eh diciamo io che sono anche tanto ehm curioso a delle eh dinamiche particolari come queste sono veramente eh soddisfatto di di quello che è stato l'evento eh ecco eh la gara virtuale è sicuramente uno strumento molto interessante per il runner eh avvincente noi abbiamo circa 8000 utenti e almeno mille di questi sono assolutamente innamorati di Rumble l'aprono ogni giorno abbiamo dei tassi di di retention molto alti e dei tassi di eh apertura da parte dello stesso utente che in alcuni casi sono eh maniacali quindi abbiamo introdotto un qualcosa di cui eh non si riesce a fare a meno in qualche maniera no? Specialmente dopo aver corso. Eh ma ciò che è molto più importante è che al di là di dare uno strumento eh utile specie in questo periodo a chi corre ma anche in futuro poi vedremo abbiamo creato un piccolo ecosistema e qui puntiamo veramente a ampliarlo in futuro in cui c'è una convergenza di di più figure quindi il runner ma anche l'organizzatore e lo sponsor quindi andiamo a creare delle sinergie nuove un flusso circolare in cui gli sponsor specie in questo periodo in cui ci sono eventi riescono ad interagire in qualche maniera con chi corre. Gli organizzatori che devono rimandare annullare la propria gara o sono fortemente spaventati da dal fatto che eh possano essere introdotte nuove limitazioni alla circolazione quindi ci possa essere una limitazione su sui runner stranieri piuttosto che ehm piuttosto che la crescita dell'infrastruttura logistica perché adesso ci sono una una serie di eh una serie di regole da da rispettare per gli organizzatori no? E quindi in realtà al di là del del gaming che con la gara virtuale trovo la sua massima espressione in realtà abbiamo costruito un piccolo ecosistema che adesso in fase sperimentale ma è in forte espansione in cui c'è ehm vari player contribuiscono a fornire eh a runner ok delle indicazioni assolutamente interessanti tramite quello che vedremo da poco e danno la possibilità di generare un'economia che altrimenti non non si sarebbe mai generata. Questo è un esempio ad esempio questo è un esempio concreto eh a F non non lo vado a definire è un nostro utente affezionato con cui abbiamo anche poi interagito successivamente perché lui è veramente innamorato della nostra applicazione. Ha iniziato a correre in primavera non aveva mai corso prima in Sardegna. a luglio ci conosce in agosto si iscrive ad una virtual organizzata da un negozio e questa virtual era sponsorizzata da un player che produce calzature sportive. Questa persona qui a F partecipa alla virtual e riceve un buono casualmente per le logiche che erano state intraprese in quell'evento lì acquista e diventa un cliente sia del negozio che si va da tutt'altra parte perché il negozio in Veneto sia poi scopriremo che si affeziona al brand di calzature quindi abbiamo creato una relazione che sarebbe stata impossibile da creare con la gara virtuale. In più abbiamo creato un runner che si è avvicinato anche a Runcard infine qui non c'è nella nella mappa perché ha partecipato alla Venice Manhattan e ora si è anche registrato a Runcard quindi è un utente che non correva ha conosciuto il running ha conosciuto cosa possa significare anche competizione agonismo acquistato ha fatto degli acquisti e adesso si avvicina all'atletica vera perché Runcard è il passaggio poi per entrare nell'atletica vera. Quindi questo è un flusso nel suo piccolo che è assolutamente interessante andare a riprodurlo su su larga scala con interazioni ancora più forti può essere assolutamente il business del futuro non non solo in questo momento di limitazione di pandemia. Qui entro nel secondo momento perché è solo un'anticipazione il finale della della prima parte in cui abbiamo parlato di gare virtuali perché ciò che poi è essenziale per creare quell'ecosistema in cui ci sia un flusso di informazioni efficace sono i big data ciò che fa Rumble consente di arrivare a definire e clasterizzare la customer base in maniera estremamente più accurata e profonda di qualsiasi altra applicazione perché per noi il dato non è solo la distanza il tempo. Per noi il dato è costituito da centinaia di variabili che comprendono sia l'ambito ambientale inteso come clima, temperatura, umidità, radiazione solare quindi esposizione alla luce, non esposizione alla luce vento, pioggia, neve ma anche qualità dell'aria quindi qui entriamo in un altro ambito molto più vicino alla salute e questo insieme a un'analisi profonda della prestazione che ci consente di andare a comprendere per ogni runner quanto una determinata attività possa essere per lui stressante in quel momento. Quindi comprenderai che mettere insieme tutte queste variabili e andare a definire dei cluster molto specifici ci dia un vantaggio enorme rispetto agli altri per andare poi a fare anche delle proposte. Possono essere in realtà ciò che l'utente avrebbe acquistato perché è il prodotto ideale per lui ma noi lo sappiamo prima. Ci sono due dimensioni di analisi. Questa è una dimensione di analisi più vicino alla performance in cui mi dà in maniera eccellente una mano Riccardo Fogliato della Carnegie Mellon. In questo caso attualmente Rumble ha analizzato un milione di prestazioni con un'escursione termica di quasi 100 gradi con 500 milioni di chilometri percorsi nell'analisi complessiva e questo è il nostro modello attuale con un fitting se mastichi un po' di statistica Federico noterai anche ad un occhio non allenato che ha un fit eccellente quindi in questo caso noi stiamo andando a predire un tempo finale di gara e poi confrontarlo con ciò che effettivamente hanno fatto gli utenti. Questo è un risultato ottimo. Puntiamo a migliorare ma è un risultato veramente eccellente sin d'ora. Questa dimensione di analisi molto profonda poi si traduce anche nella possibilità di dare all'utente la possibilità di interagire direttamente con una dashboard in cui ci siano degli elementi di data lounge che presto introdurremo che però oltre ai classici sono estremamente interessanti perché danno delle dimensioni che nessun altro strumento, nessun altro app da ad esempio l'esposizione al disagio climatico, alla radiazione solare, la percentuale di acclimatamento. Ecco questo ha delle conseguenze enormi sulla performance ma anche sul benessere e soprattutto ci consente di arrivare ad ottenere delle informazioni specifiche a clasterizzare in maniera così granulare, profonda da avere dei dati che attualmente non sono enormi se vogliamo paragonarli a dei player che sono presenti da anni sul mercato ma sono estremamente più efficaci perché hanno una granularità molto molto più alta di cui un elemento essenziale è l'ambito climatico. Ad esempio nel caso dell'integrazione alimentare uno schema molto semplice perché in realtà ne stiamo definendo tanti molto più complessi di questo andare a definire se un runner corre in maniera intensiva e questo noi con Rumble lo sappiamo giornalmente conosciamo l'età, sappiamo che ha ad esempio tra 50 e 60 anni sappiamo che ieri oppure oggi ha corso un'ora e 30 con un disagio climatico molto elevato quindi avrà perso una quantità di liquidi molto elevata tendenzialmente possiamo integrare questo anche nelle informazioni aggiuntive ad esempio ha corso le ultime 10 attività con una realizzazione solare superiore a ecco avere tutte queste informazioni la giornata di oggi piuttosto che di domani potrebbe portare noi Rumble con la collaborazione ovviamente di nutrizionisti che ci assistono e di produttori, di integratori ad andare a proporre a questa persona qualcosa di calzante di estremamente che sia veramente il prodotto giusto per lui in quel momento e questo lo può dire solo Rumble possiamo fare solo noi questo tipo di analisi o ad esempio anche nel campo dell'outfit tra l'altro Rumble ha tante funzioni innovative una funzione innovativa è quella di definire l'outfit ideale in tempo reale selezionato in una località per svolgere una determinata attività con delle intensità differenti questa è un'innovazione in realtà enorme di cui non parleremo oggi però nell'ambito di big data e di analisi anche questo è estremamente importante perché noi conoscendo il tipo di attività dell'utente le località in cui corre quindi anche tutto l'aspetto climatico ma analizzato in profondità quindi non solo temperatura, umidità ma anche il microclima della zona in cui corre ecco noi possiamo andare a definire che un tipo di giacca termica può essere corretto per te ma non per me un tipo di calzatura può essere corretto per te ma non per me perché il 90% delle tue attività si svolge sul sentiero ghiacciato nel pendio nord all'ombra hai bisogno di un grip più elevato nessuno riesce a darti una granularità un'informazione così dettagliata come possiamo darla noi se per esempio io ti dico io corro prendo un caso io corro sul lungo fiume con vento a 20 miglia orarie di media è una temperatura di 7 gradi tu mi riesci a dire cioè Rumble mi riesci a dire certo tendenzialmente tu non dovrai dirmi nulla cioè io vedo da me però l'obiettivo è l'obiettivo è duplice in realtà per noi andare a convertire effettivamente delle nostre iniziative di marketing in maniera molto efficace ma è duplice perché punta a dare a te quello che è giusto per te in quel momento quindi è un qualcosa che l'utente tendenzialmente apprezzerà perché trovare veramente il prodotto giusto nel momento giusto porta poi l'acquisto ma fa anche felici in qualche modo qui c'è un esempio di clusterizzazione invece per la parte di training perché possiamo fare anche quello ovvero in app c'è la possibilità di dichiarare interesse non solo per partecipare a gare virtuali ma dichiarare interesse anche per degli eventi reali per i quali si può fare un giochetto estremamente bello cioè simulare la prestazione realizzabile in un evento reale noi abbiamo un vastissimo database con informazioni di centinaia di gare quindi altimetria condizioni climatiche medie poi le condizioni climatiche negli ultimi giorni si aggiornano anche in tempo reale quindi c'è la possibilità di a partire da un tempo ipotizzato o comunque a partire da un tempo che l'effettivo valore del runner in quel momento andare a simulare quello che farò alla maratona di New York piuttosto che a Berlino piuttosto che a Doha ad esempio simulare cosa si sarebbe andati a realizzare a Doha sarebbe stato essenziale forse vincente anche per gli atleti professionisti perché questa dimensione di analisi non esisteva e quindi anche un allenatore esperto al di là di dispensare consigli generici avrebbe fatto fatica a definire una tattica di gara in maniera circostanziata e precisa qui c'è un altro esempio di clusterizzazione che porta ad esempio l'acquisto di un determinato device quindi di un Garmin di un Sunto di un Polar piuttosto che di un di altro e soprattutto poi c'è un ultimo ambito molto interessante per il quale potremmo aprire delle collaborazioni estremamente interessanti adesso stiamo creando già un dataset di dati che è più vicino a un'analisi medica ovvero andare a raccogliere dati su utenti che corrono in luoghi particolarmente inquinati molto spesso ad un'intensità elevata e molto a lungo e metciare questa informazione a medio-lungo termine richiedendo dei feedback può essere veramente una frontiera della ricerca estremamente interessante quindi gli ambiti che andiamo a toccare come vedi sono tanti e con questo finiamo la breve presentazione di Big Data il cui messaggio essenziale è noi stiamo facendo degli esperimenti con dei nostri con player e sponsor per andare a dimostrare che proporre agli utenti dei prodotti in base ad una clusterizzazione che solo Rumble riesce a fare porta dei vantaggi enormi io magari Federico te lo condividerò dopo il dato ma il dato che abbiamo finora è sorprendente quindi abbiamo dei tassi di conversione enormi te la chiedo la presentazione va bene va bene l'ultimo ambito che anche questo molto bello e concreto a cui stiamo aprendo e apriremo anche in termini di sviluppo in app breve è quello dello sport tech legato al territorio e alla community questo è un ambito di cui sicuramente ne sai qualcosa anzi più di qualcosa visto che c'è un progetto che a breve partirà ciò che sta alla base di questo in ultimo era una panoramica delle funzionalità dell'app per capire dove si va ad innestare poi concretamente il progetto che vedremo tra poco che è molto stringato ma di cui sicuramente vi parlerò ovvero che cosa è possibile fare concretamente con l'app Rumble quindi sicuramente un'attività di planning che serve per ottimizzare gli allenamenti ovvero definire nei prossimi giorni quale possa essere il momento ideale per allenarsi ci possono visualizzare in app delle curve di stima della prestazione si possono scegliere le gare più veloci quindi quello che dicevamo prima andando a stimare l'influenza del percorso sulla prestazione e le condizioni climatiche e a definire la tattica di gara ottimale che può essere poco importante per chi va a correre al parco relativamente importante ma poi se va condiviso agli amici molto importante per l'amatore e estremamente importante per l'atleta d'elite infatti noi in realtà abbiamo già delle collaborazioni anche con atleti d'elite tra cui Ejob che è l'attuale primatista italiano in maratona a settembre utilizzando la nostra app in realtà ha realizzato il regolo virtuale sui 10 km perché correndo nell'autodromo di Monza con una giornata in settembre che è stata caldissima in realtà il suo risultato molto vicino al record nazionale effettivo normalizzato poi risultato inferiore ai 28 minuti andando a definire quelle che sono le sue potenzialità anzi facciamo i migliori auguri per tutto il percorso che lo porterà poi alle Olimpiadi l'altro ambito è quello dell'health and wellness quindi in app è possibile ricevere dei suggerimenti sull'abbigliamento ideale per correre in una determinata località e a breve avrà introdotto anche l'indicatore di qualità dell'aria con l'app è possibile tracciare un'attività proprio con lo smartphone in più interfacciarsi a diverse tecnologie wearable proprio oggi abbiamo fatto un rilascio con health kit di apple quindi tutto ciò che viene registrato con apple watch può essere integrato e acquisito in rumble e infine c'è la parte simpatica più dinamica che l'area social community che attualmente in app consente di seguire altri atleti interagire tra loro con loro con commenti ma anche con bull i bull sono i like di rumble ovviamente condividere anche delle fotografie ma ciò che sta alla base della community è un altro concetto estremamente interessante che contiamo di realizzare a brevissimo anche con delle sinergie con quello che stai realizzando tu vuoi parlare brevemente anzi di quello che si diciamo che non so è un rapporto di stima e si spera che ci sia anche un rapporto di collaborazione da poter annunciare anche nel 21 per lanciare appunto un progetto insieme sul quale stiamo lavorando parallelamente in realtà abbiamo iniziato noi il lato nostro a lavorare su un progetto di riqualificazione di quello che è il parto del futuro sostenibile tecnologico e sportivo e pensiamo appunto che una sinergia insieme a Rumble potrà creare per gli user Rumble ma anche per diciamo più aperta a tutti anche chi non è un runner ma anche chi utilizza i parking soltanto per una camminata una passeggiata riuscire a trovare una community che possa ospitare e dirgli anche oltre tutte queste grandi data che riesce a collezionare Rumble anche a dirgli quanto sono belli dei percorsi dove si trovano come si possono fare se serve un elemento tecnologico se serve la sincronizzazione con Rumble per massimizzare appunto quel percorso all'interno di un parco magari noi la pensiamo un pochettino così per poi estenderla fino a lungomare piuttosto che lungolago o spazi urbani cittadini dove già si corre già si cammina già si si promuove il benessere ma dove non esiste una vera community che riesca a raggruppare tutte le performance collezionate da questi runner amatori veri e propri certo certo sì l'idea finale è di creare effettivamente valore a partire da ciò che l'utente fa in termini di informazione che metta a disposizione a terzi quindi mettendo a frutto anche mettendo a disposizione quella che è la sua passione e la sua conoscenza perché in realtà chi meglio di una persona che corre abitualmente su un determinato percorso può conoscerlo quindi mettere a disposizione questa informazione e diventare effettivamente promotore di quel percorso avere la possibilità di inserire queste informazioni in rumble di creare delle sfide con tutte le persone che possano correre in quel percorso che quindi lo individuano anche in base a delle caratteristiche interessanti per loro dal punto di vista della performance della prestazione ma anche dal punto di vista della sicurezza come può essere l'illuminazione notturna piuttosto che avere l'acqua potabile la possibilità di creare una sfida e quindi attraverso la sfida conoscere altre persone creare effettivamente una piccola community attorno a un percorso valorizzarlo e perché no anzi questo è molto importante è interessante avere il supporto di uno sponsor che possa in realtà interagire con tutti i membri di quella piccola ma coesa community che si va a creare questo è il progetto che vedrà la luce a breve con cui appunto troveremo delle sinergie sono sicuro che può essere estremamente interessante dal punto di vista delle opportunità e può dare veramente una spinta alla promozione territoriale attraverso canali assolutamente nuovi e inesplorati il nuovo diciamo può essere un'opportunità per nuove situazioni di marketing territoriale e non promuovendo appunto il benessere che sappiamo quanto è caro alle amministrazioni pubbliche in questo caso ma ai cittadini stessi appoggiandosi sui perni di quello che sarà il recovery fund probabilmente che anzi senza probabilmente essendo uscito da poco parlando di digitalizzazione sostenibilità sicuramente la collocazione di un progetto del genere potrebbe interessare non solo alla piccola o alla media impresa ma anche alle amministrazioni pubbliche di turno certo va bene Federico io ovviamente vi invito a scaricare l'app adesso siamo ancora in fase beta nonostante i nostri beta siano quasi 10.000 però puntiamo a fare le cose veramente per bene quindi in questo momento stiamo redigendo un business plan sulla base di tutte le informazioni che abbiamo acquisito in questi mesi noi vogliamo usare il mondo quindi accettiamo qualsiasi tipo di contributo in termini di expertise da parte vostra Federico quindi di collaborazioni future ti ringrazio e come penso ti ringrazieranno tutti quanti quelli che ci hanno ascoltato sia su zoom che live sulla piattaforma di Maker Faire ma anche su chi ci ascolterà nei prossimi giorni appunto sulla piattaforma di Maker Faire volevo chiudere soltanto chiedendoti una domanda e poi ti lascio libero perché siamo orario di cena quasi per uno start-up non ci sono orari per uno start-up quindi voglio dire una cosa per la strategia futura prima tu hai detto del rapporto con i pro quindi parlavi di come le performance possono migliorare per gli atleti professionisti vedi l'evoluzione di Rambul più dedicata agli amatori quindi a chi corre magari una 5 una 10 chilometri o a chi è un professionista del running sono due dimensioni diverse devono correre in maniera parallela ma in qualche modo separata perché l'atleta d'elita ha bisogno di strumenti professionali che attualmente non esistono e quindi noi andremo a realizzare questi strumenti professionali e specifici per una persona in particolare che può essere un atleta che seguiamo ma poi il Rambul deve rivolgersi alla massa a chi corre al parco a chi fa le gare la domenica anzi tornerà a fare la gare la domenica a chi corre per dimagrire a chi corre per combattere lo stress di una vita sempre più frenetica quindi la dimensione di wellness e salute sarà assolutamente determinante però con l'introduzione di strumenti che per quanto a prima vista ostici saranno il futuro saranno determinanti perché la relazione tra ambiente e uomo sarà sempre più stretta ottimo per me è stato molto molto chiaro ti ringrazio ancora grazie a te e ci sentiamo presto grazie Andrea grazie ciao presto ciao grazie a te